Ah raga, oggi faremo l'assaggio di tutti questi cibi stranieri andiamo a vedere, è la prima volta che li provo il primo è questo qua, che non so manco che cosa sono sinceramente poi abbiamo questi maghi cibi questi sono di oreo queste patatine con le pannocchie queste due bevande poi abbiamo questo che veramente ci sono dei pezzettini di cocco dentro che guarda non oso immaginare queste queste palline di cioccolato iniziamo con questo questa aroma, questo è fatto di frumento, latte di soia tutto di fragola sono buoni però tutti questi cibi sono filippini comunque questo è molto buono passiamo con questo, è sciroppo di cocco aroma di banana questo fa un po' schifo non sape niente proprio sì banana sì ma fa un po' schifo sinceramente mi fa pure senso mettere in bocca a queste palline succo all'ananas e gelatina di cocco infatti vedete dentro stanno le palline sarà un altro schifo questo sicuramente questo decente molto meglio di quello di prima che facevamo schifo sinceramente però sa de' ananas sinceramente de' ananas ora passiamo a questi stick tipo all'oreo che mi sembrano un po' più decenti ma de' reo sa ben poco d'oreo di gioco d'oreo proprio zero sti filippini questi filippini non ci siamo proprio ora passiamo a questa specie di pannocchia eccole qua sono piccanti sono piccanti le pannocchia non sa ne niente c'è solo di piccante che è molto piccante patatine di mais insomma 4 e mezzo palline di cioccolato queste sono buone almeno queste commentate cibi filippini se volete vederne altri cibi li comprerò e li zesterò